Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale dal vostro The Batman, il cavaliere oscuro di YouTube per questo nuovo video. Allora, oggi ragazzi in questo nuovo video torniamo a parlare di coronavirus perché come sapete, come sempre, il nostro canale è stato sempre attivo e diciamo molto propenso a rilasciare informazioni per quanto riguarda il coronavirus e i vari cambiamenti. Oggi parleremo in particolar modo del Green Pass, ovvero questo fantomatico pass verde che ci permetterà di spostarci tra le regioni. Oggi parleremo ovviamente come funziona dalla validità alle sanzioni, chiaramente. Come già detto, questo Green Pass si chiama ufficialmente Certificazione Verde e è il pass introdotto dal nuovo decreto anti-covid necessario per potersi spostare in entrata e in uscita dalle regioni in fascia arancione-rossa dal 26 aprile. Non solo, in futuro potrebbe essere usato anche per consentire l'accesso a eventi speciali che non rientrano tra gli spettacoli che avranno il via libera dal 26 aprile, come ad esempio concerti straordinari con più spettatori di quelli indicati nel protocollo del Ministero della Cultura. Ci sono anche in questo Green Pass tre tipologie e diverse durate, perché il Green Pass potrà essere in formato cartaceo oppure digitale ovviamente, e avrà una durata di 6 mesi per i vaccinati e i guariti dal covid, e di 48 ore invece per chi si sottoporrà a test antigenico o molecolare con esito negativo. Chi lo falsifica ovviamente rischia anche il carcere. Parliamo del certificato per i vaccinati. La certificazione sarà compilata dalla struttura presso la quale è stato effettuato il vaccino. Il documento infatti che confluirà poi nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato deve essere rilasciato quando il ciclo è completo, cioè quando è stata fatta la seconda dose, oppure anche solo la prima se il vaccino ovviamente è quello di Johnson & Johnson. Chi ha completato il ciclo di vaccinazione prima dell'entrata in vigore del nuovo provvedimento e non ha ricevuto alcuna certificazione può farne espressa richiesta alla struttura sanitaria o alla regione oppure alla provincia. Chiaramente il green pass per chi è guarito dal covid. Per le persone guarite il certificato sarà rilasciato dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente o per i non ricoverati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta. Il pass però cessa di avere validità qualora l'interessato risulti successivamente di nuovo positivo al coronavirus ovviamente. Le certificazioni di guarigione rilasciate prima dell'entrata in vigore del decreto avranno una validità di 6 mesi dalla data indicata sulla certificazione. Chi si sottoporrà poi a tampone antigennico rapido o molecolare con esito negativo avrà una certificazione verde della durata di 48 ore che sarà rilasciata dalla struttura stessa che ha effettuato il tampone. Strutture sanitarie pubbliche, private e accreditate, farmacie, medici di medicina generale oppure pediatri. Le disposizioni italiane saranno valide finché non entrerà in vigore l'atteso Green Pass europeo, un documento informatico che dovrebbe essere pronto a fine giugno nel quale saranno convogliati anche i certificati nazionali. Perché a fine giugno avremo il Green Pass europeo. Poi ci sarà anche un certificato verde rilasciato in Unione Europea, valido anche in Italia. Perché intanto le certificazioni verdi rilasciate dagli stati membri dell'Unione sono riconosciute valide in Italia. Quelle di uno Stato terzo se la vaccinazione è riconosciuta come equivalente a quella valida sul territorio nazionale ovviamente. Il Ministro dello Sviluppo, ovviamente economico, ha annunciato poi che il Governo sta pensando a un Green Pass che permetta anche l'ingresso in Italia degli stranieri. Chiaramente, come abbiamo già detto, c'è il carcere per chi li falsifica. Quando sono cartacei ovviamente i certificati possono essere più facilmente contraffatti. Il decreto rinvia perciò le sanzioni previste dagli articoli del Cogici Penale sulle varie tipologie di falso del pubblico ufficiale o del privato che producono documenti contraffatti oppure alterati. Ovviamente le penne di reclusione indicate dal Cogici sono aumentate di un terzo. Non solo, se la certificazione verde Covid contraffatto alterata è utilizzata per svolgere attività oppure compiere spostamenti vietati ai sensi del presente decreto, si applicano anche le relative sanzioni amministrative che vanno da 400 fino a 3000 euro. Chiaramente ci saranno anche soluzioni digitali dedicate allo studio, perché la soluzione disegnata per ora è abbastanza semplice e si spera di farla partire già il 26 di aprile. Si basa di fatto su documenti cartacei normalmente rilasciati a chi fa il vaccino o il tampone o anche a chi ha avuto il Covid come per esempio io l'ho avuto, quindi in teoria io dovrei avere già il Green Pass in teoria da piegare e portare sempre con sé. Ma è allo studio anche un pass digitale, infatti su questo fronte tra le ipotesi allo studio c'è quella di un'applicazione per smartphone con un codice QR, ossia un codice a barre bidimensionale come sappiamo, da scansionare. Quindi si tratterebbe però di un sistema fruibile soprattutto da più giovani rotati di smartphone ovviamente. Altra ipotesi invece è quella di ricorrere al tesserino sanitario sul quale verrebbero caricati i dati, che ovviamente in teoria dovrebbe essere la soluzione più facile. La terza alternativa invece è realizzare una tessera digitale ad hoc con il possibile coinvolgimento di poste italiane, il Ministero della Salute e il Ministero dell'Innovazione Tecnologica e della Transizione Digitale. Poi saranno anche da valutare le possibilità di avvalersi dell'applicazione I.O. già usata per il cashback e attivata da 10 milioni di italiani. Intanto però per esempio alcune regioni stanno provando a giocare d'anticipo. Per esempio l'Alto Adige dove il governatore ha annunciato l'introduzione di un Green Pass in provincia di Bolzano, oppure anche la Valle d'Aosta intende accelerare sull'istituzione di un Green Pass regionale che come riferito dal Presidente della regione dovrebbe essere gestito da un'applicazione legata al sistema informatico dell'azienda ASL. Ma la Ministra ovviamente degli affari regionali frena e invita la prudenza, servono regole nazionali non regionali. Questo ovviamente era un breve video per cominciare a capire di come funzionerà questo cosiddetto Green Pass, questo pass verde che ci permetterà ovviamente, quando ovviamente uscirà, di poterci spostare da una regione all'altra. Naturalmente voi ragazzi, come sempre, fatemi sapere cosa ne pensate di questo Green Pass. Scrivetemelo nei commenti, scrivete anche cosa ne pensate di questo nuovo Green Pass, perché come sempre il nostro canale è sempre attivo per quanto riguarda le questioni del Covid. Naturalmente, come sempre ragazzi, se vi è piaciuto questo nuovo video lasciate un like, mettete un bel mi piace, naturalmente continuate a mandare il vostro supporto continuando a seguirci, iscrivendovi al nostro canale. A presto per un nuovo video. Ciao e a presto!